Frosinone Pescara in programma venerdì con inizio alle 21. Sarà l'anticipo della quinta giornata del girone di ritorno. Eccola qui la notizia che abbiamo pubblicato sul nostro sito www.reteotto.it perché ci potrebbe essere la sorpresa Macin nel ruolo di Mezzala. La sorpresa fino a un certo punto perché quando è arrivato Macin soprattutto con Pilon ha giocato sempre da Mezzala nel 4-3-3 poi spostato sulla tre quarti. Quindi Macin potrebbe tornare per così dire all'antico. Lo sta provando Grassadonia che sembra intenzionato a rilanciare Galano in attacco alle spalle di Odgaard. Infatti Setter non è al meglio della condizione. Per quanto riguarda invece gli indisponibili. Gli indisponibili saranno Memushai Sorensen, Giannetti ancora fuori, l'ex attaccante della Sarditana, lo squalificato Balzano. Domani la seduta di rifinitura, poi il pre-gara in conferenza del neotecnico Gianluca Grassadonia. Vedremo se sarà questo l'assetto tattico, probabilmente il 3-5-2. Per quanto riguarda invece Frosinone, Nesta ha recuperato l'intera difesa. Tornano infatti a disposizione sia Brighenti che l'ex Marco Capuano, pescarese Doc, che ha scontato il turno di stop caso squalifica. Certa la defezione di Ciano, sistema di gioco 3-5-2. Il probabile 11, Bardi tre pali, Curado, Brighenti, Ariaudo e Capuano nel cuore della difesa. Salvi e Zampano, altro ex sulle fasce. Rodien, Maiello e Castanos, altro ex a centrocapo. In attacco il tandem Iemmello-Novakovic, che dir si voglia, il Frosinone in casa non è un fulmine di guerra, soltanto tre successi. Non vince dallo scorso 5 dicembre, 3-2 sul Chievo nelle ultime 11 partite, 9 punti come il Pescara. Insomma, non sta attraversando un buon momento la squadra di Nesta, che però è tornata a flertare con il successo nell'ultimo turno. a Chiavari, 3-2 sul campo dell'Entella, non vinceva in campionato dal 15 dicembre 2-1 a Reggio Emilia.